Cultura e creatività sono un asset importantissimo per il nostro Paese, è infatti ormai conclamato che queste gerino valore di diverso tipo, da quello sociale a quello economico finanziario e proprio in considerazione di ciò è importante mettere in campo delle misure a tutela di questo settore importantissimo. E questo vale soprattutto oggi perché la transizione digitale e il progresso tecnologico stanno rivoluzionando tutti i comparti, ovviamente anche quello culturale. Ecco che quindi nascono nuove esigenze, nuove necessità e per poter rispondere a queste nuove esigenze e necessità è necessario creare nuovi servizi, nuovi prodotti e per creare questi nuovi servizi e prodotti culturali è necessario avere delle nuove competenze e nuove professionalità. Queste competenze e professionalità sono però sempre più specifiche, sempre più tecniche e sempre più lontane a chi non è un addetto ai lavori. Fondazione Cariplo che da oltre 30 anni sostiene il comparto culturale, da più di un decennio in realtà si impegna a supportare l'innovazione in ambito culturale e quindi da una comune visione di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Union Camera Lombardia e anche grazie al supporto di Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore nasce in Nuova Cultura, un'iniziativa che vuole sostenere il campo culturale creativo portando innovazione in esso. Forti dell'esperienza molto positiva della precedente iniziativa Innova Musei abbiamo voluto rilanciare questa operazione andando a ampliare il suo effetto e andando a intercettare una serie di soggetti sia all'interno del mondo dell'impresa culturale creativa sia all'interno del comparto culturale affinché tra di loro potessero nascere delle collaborazioni e delle sinergie. La struttura di Nuova Cultura è piuttosto articolata e complessa ma per riassumerla diciamo che si suddivide in due macro azioni. Una prima azione rivolta alle imprese culturali creative e finalizzata a sostenerle, ad affinare la loro selling proposition e quindi si concretizza poi sostanzialmente in un intervento rispetto al capacity building, quindi alla capacitazione aziendale di queste imprese e una seconda parte di investimenti a impatto, quindi tramite capitale e paziente, verso le imprese che sviluppano prodotti e servizi più vicini alle comunità. La seconda parte dell'iniziativa va invece a sostanziarsi nel bando regionale che è stato presentato proprio poco fa e che ha una dotazione economica non indifferente pari a 6 milioni di euro che Regione Lombardia e Unione Camera Lombardia andranno a erogare per sostenere quei progetti culturali dal maggior carattere innovativo dei quali potrà beneficiare tutta la comunità. L'obiettivo ultimo del progetto è generare un'innovazione che non sia fino a se stessa e sterile ma che possa supportare i luoghi di cultura, mantenere vivi loro l'apporto con il pubblico e a portare avanti il loro importantissimo ruolo sociale e pedagogico.